eat workout con recupero variabile alterniamo due blocchi il primo blocco con esercizi di facile esecuzioni e tempi di 30 e 30 il secondo con esercizi di media difficoltà e tempi 30 e 20 vamos o la ragazzi iniziamo il riscaldamento ci conduzione in avanti scaldiamo bene sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo per questa per questo super workout it ok 5 4 3 2 1 cambio dietro un pochino più lento apriamo apriamo scaldiamo bene vamos vamos vai mantieni il ritmo allarga bene scaldiamo le spalle le braccia tutta la parte superiore 4 3 2 1 ok step touch respirazione iniziamo a respirare naso bocca prendiamo aria e buttiamo fuori iniziamo a scaldare anche la parte bassa sincronizza i movimenti 3 2 1 divarichiamo le gambe andiamo a destra e a sinistra vai braccio dietro e vado a prendere la punta se riesco vai 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 respira 3 2 1 ok cambio calcio in avanti alternato salgo salgo passettino indietro e riparto vai 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 5 4 3 2 1 ok spinta e slanciamo mezzo squat e slanciamo pam pam mani sui fianchi giù e slanciamo scaldiamo bene parte in fiori del corpo vai 5 4 3 2 1 sciogli cambio dall'altra parte hop e vai hop e vai sincronizza anche le braccia fai lavorare anche le braccia vai scendi salgo mezzo squat e slancio 5 4 3 2 1 ok mettiamo sempre le gambe spinte dietro pam 1 2 1 2 1 2 1 2 vai scaldiamo bene braccia spalle inizia la respirazione naso bocca 5 3 2 1 torsione vai lento controllato scaldiamo bene 10 secondi andiamo in con il jumping jack respira 5 4 3 2 1 vai jumping jack sincronizza il movimento braccia su braccia giù aperto chiuso aperto chiuso sincronizza vai vai mantieni il ritmo 15 secondi e passiamo a step touch inizia a respirare 5 4 3 2 1 cambio step touch respira mantieni sempre la respirazione attiva non lavorare mai in apnea 20 secondi andiamo giù plank in movimento respira respira pam 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 fai lavorare anche le braccia 10 secondi plank in movimento vai respirazione andiamo giù 3 2 1 plank in movimento vai alterna bene i due movimenti braccia tesa addome contratto vai non barcolare rimani retto alterniamo bene vai mantieni 5 secondi continua 3 2 1 su salta e latta dietro sul posto respira 20 secondi e cambiamo con l'affondo indietro alternato respira recupera 10 secondi e andiamo in affondo alternato prima una gamba e poi l'altra 3 2 1 vai a fondo indietro pam pam utilizza le braccia che servono per la stabilità respirazione vai questo esercizio lavora gambe glutei l'addome retto vai mantieni il ritmo 10 secondi e andiamo in step touch se riesce a toccare bene se no sfiori il pavimento 2 1 step touch respira naso bocca sempre la respirazione importante 20 secondi e ripartiamo 3 torsione e un pugno respira lavora anche le braccia 10 secondi ci prepariamo per torsione pugno posizione di mezzo squat 5 4 3 2 1 vai pam 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 e vai su mantieni il ritmo lo puoi fare anche più corto a 2 pugno vai lo butto fuori nel pugno vai torsione e pugno vai 4 3 2 1 ok saltellata dietro recupera respira naso bocca vai riprendiamo il fiato mani sui fianchi 10 secondi e riprendiamo e riprendiamo squat ok facciamo un bello squat pieno gambe glutei 3 2 1 vai squat e sali e sali lavoriamo bene con le braccia scendiamo talloni a terra il ginocchio non supera la punta dei piedi vai mantieni il ritmo vai 10 secondi e torniamo in step touch vai vai 5 4 3 2 1 cambio step touch respira riprendi il fiato la respirazione è importante mentre vi allenate non fate gli esercizi o le figure in apnea se no perderete il ritmo e andrete in affano naso bocca e butta fuori vai 5 4 3 2 1 ok perfetto pausa nel prossimo blocco faremo esercizi più pegnativi con meno recupero ok riprendiamo jumping jack e alzata frontale vai separa bene i due movimenti respirazione sopra la testa frontale sopra la testa frontale vai vai mantieni il ritmo 10 secondi e passiamo in step touch vai vai 5 4 3 2 1 trasformazione step touch vai respira 15 secondi e andiamo con il plank in corsa plank in corsa per lavorare addome core vai vai 3 2 1 plank in corsa vai addome fermo ginocchio verso il petto che sfiora il pavimento vai movimento pulito respira importante respira non ti fermare 10 secondi resisti mantieni il ritmo 5 4 3 2 1 sali calciata dietro sul posto recupera prendi aria e butta fuori 10 secondi ripartiamo squat più doppio calcio 3 2 1 vai squat e doppio calcio pump pump giù pump pump vai butto fuori l'aria scendo salgo i piedi lavorano sincronizzati separa bene i tre movimenti vai su 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 3 2 1 step touch vai recupera 15 secondi riprendi fiato riprendi le energie ripartiamo con 2 jumping jack e camminata sul plank 3 2 1 vai 1 2 jumping jack camminata sul plank e ritorno vai 1 2 camminata sul plank blocco e ritorno continua pump 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 e giù vai e risalgo vai 1 2 giù e risalgo 5 4 3 2 1 calciata dietro recupero respira recupera bene per non entrare in affanno 10 secondi e facciamo squat più un pugno incrociato alternato 3 2 1 vai squat e il pugno pam 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 oscilla vai butta fuori l'aria vai continua di fermare 10 secondi vai vai che lavora gambe glutei su 3 2 1 step touch recupera respira naso e bocca separa bene i movimenti segui il tempo del video lavora con me 5 4 3 2 1 ok ora pausa ora riprendiamo con un blocco un pochino più leggero ok riprendiamo jumping jack vai allarga bene le braccia sincronizza bene il movimento apertura qui chiusura qui apertura qui chiusura qui vai 15 secondi vai lavoriamo in total body vai hit 5 4 3 2 1 perfetto step touch respira recupero attivo lavora anche le braccia sincronizza il movimento con la respirazione naso bocca 15 secondi andiamo giù plank in movimento quindi posizione del plank ginocchio alternato che sale verso il petto ok 5 4 3 2 1 vai giù posizione di plank braccia tese addome contratto respira movimento lento controllato facciamo lavorare bene addome lombari braccia spalle vai 10 secondi respira 5 4 3 2 1 ok saliamo calciata dietro recupero attivo 20 secondi di recupero attivo e poi ripartiamo affondo indietro alternato andiamo a lavorare gambe glutei ok respirazione 10 secondi respira 5 4 3 2 1 vai affondo alternato siamo su quel busto utilizziamo le braccia come stabilità se riesci tocchi col ginocchio per terra lentamente se non riesci ti fermi prima vai 10 secondi andiamo in step touch mantieni il ritmo vai 3 2 1 ok step touch questo è un recupero attivo approfitta per riprendere il fiato ristabilire la respirazione 15 secondi e ripartiamo con torsione e pugno vai respira dai che ci siamo continuiamo a bruciare i grassi andiamo 3 2 1 posizione di mezzo squat vai 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 mantieni il ritmo su su torsione pugno vai segui la velocità del video su respira dai che ci siamo 5 4 3 2 1 ok recupero attivo respira naso bocca calciate dietro sul posto vai prendi l'aria prendi l'aria attività e ti aiuta a sincronizzare il movimento vai lavoriamo gambe glutei addome vai vai mantieni il ritmo 8 secondi vai su su 3 2 1 ok cambio step touch approfitta per recuperare riprendi fiato regolarizziamo i battiti vai respirazione bruciamo i grassi tonifichiamo rassoddiamo 5 4 3 2 1 ok perfetto pausa preparati per il prossimo blocco faremo solo 20 secondi di recupero attivo ok iniziamo jumping jack e alzata frontale vai sincronizza bene i due movimenti separali siamo sempre in apertura apriamo chiudiamo apriamo vai vai mantieni il ritmo tonifichiamo bruciamo i grassi benessere in total body 360 gradi vai vai 3 2 1 cambio step touch 20 secondi di recupero attivo vai respira ripartiamo 10 secondi plank in corsa andiamo giù posizione del plank e corsa con le gambe 3 2 1 vai plank bloccato e lavoriamo con le gambe in corsa respira mantieni il ritmo se non ce la fai rallenti respira vai vai respirazione 10 secondi vai 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 mantieni mantieni 5 4 3 2 1 su calciata dietro sul posto 20 secondi di recupero attivo dai 10 secondi ripartiamo squat più doppio calcio 3 2 1 posizione di squat andiamo giù 1 2 giù 1 2 scendiamo saliamo 1 2 ok vai mantieni il ritmo su 10 secondi non mollare è difficile questo esercizio lavora tantissimo vai 3 2 1 ok step touch recupera prendi fiato ripartiamo 2 jumping jack camminata su plank 3 2 1 vai 1 2 andiamo giù blocco del plank e sali 2 jumping jack 1 2 vai separa bene i movimenti 1 2 vai su risali 1 2 andiamo giù 5 4 3 2 1 ok dietro calciata dietro sul posto recupero attivo respira andiamo andiamo con questo workout brucia grassi 5 secondi squat più pugno incrociato 3 2 1 andiamo giù 1 giù 2 vai vai sincronizza respira separa i movimenti vai vai attiviamo gambe glutei braccia addome 10 secondi 10 secondi vai vai 5 4 3 2 1 ok step touch respira naso bocca riprendi fiato riprendiamo fiato questo workout questo workout è un ottimo workout brucia grassi e ora andiamo in pausa ultimo blocco tieni duro lavoreremo sempre in 30 secondi ad alta intensità 30 secondi di recuperativo ok ripartiamo stretching circonduzione in avanti defatichiamo il corpo dopo il workout pieghiamo leggermente le gambe circonduzione in avanti movimento lento controllato cambio dietro approfitta per respirare movimento lento controllato scarica le tensioni vai 5 4 3 2 1 mobilizzazione della colonna ci pigliamo mani sui fianchi indietro con la spalla rientriamo e su indietro rientriamo su continua su scarichiamo la schiena vai su dietro buttiamo fuori e su 5 4 3 2 1 ok respirazione allarghiamo le gambe andiamo giù prendiamo l'aria blocco trattieni e scendi questa respirazione rallenta i battiti e vi fa recuperare ok stretching gamba sinistra andiamo su prendiamo bene utilizza il braccio per la stabilizzazione l'equilibrio continua a respirare naso bocca respirazione respirazione 5 4 3 2 1 perfetto sciogli l'altra gamba sali allarga il braccio ti aiuta nella stabilità mantieni continua a respirare naso bocca 3 2 1 perfetto sciogli divaricata frontale allarghiamo le gambe andiamo giù prendiamo le caviglie se riesci puoi anche arrivare alle punte altrimenti ti fermi sulle caviglie respira sciogli le tensioni mantieni l'allungamento andiamo da una parte ci spostiamo mantieni mantieni poi piano piano passiamo dall'altra parte sciogli bene rifatichiamo devi tirare dietro allunga il muscolo dietro 2 1 piano piano dall'altra parte prendiamo la caviglia mantieni mantieni l'allungamento allunghiamo bene 5 4 3 2 1 ritorna in mezzo vieni su piano 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 ok perfetto il nostro workout è finito al prossimo allenamento piano 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 audio piano 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 Grazie a tutti.